Da questa causa che cosa ti aspetti? Certo, soldi e giustizia. La Germania ha un debito con lui e dopo essere sopravvissuta a un blagher nazista, ha 99 anni suonati, pretende giustizia. Per questo il signor Quinto, ex soldato di Fantellia originario di Campofilone, ora residente a Civitanova, ha avviato un procedimento nei confronti della Repubblica Federale Tedesca e chiede un risarcimento di 130.000 euro per quei 21 mesi di sofferenza, patita nel campo di concentramento di Mislovitz a due passi da Auschwitz. Sono passati 78 anni dalla sua liberazione da parte dei russi, eppure Quinto non dimentica. Aveva appena 19 anni quando a Gorizia venne catturato ed internato. Sempre si è sofferto. La fame è freddo. Pugimbrava con un moschetto, non con le mani, con le spalle. Come un animale. Ma la vita era sacrificata. Nera, nera era. Dal lavoro forzato alla vita nelle baracche, Quinto sa bene di essere un sopravvissuto, scampato per due volte alle fucilazioni dopo aver tentato la fuga dal Lager solo perché assomigliava al figlio di un comandante tedesco. Lui e i suoi compagni se li ricorda e li ha visti morire sotto i suoi occhi. Questo è morto in Germania. Qui è a tornare con me. Un ritorno di sé a Perquinto, sei mesi a piedi dalla Polonia fino a casa e sul corpo i segni del suo calvario. Era un straccio, quasi 38 kg. Lo scherzo lo sono buttato a casa. Gli acciacchi e il Covid appena sconfitto Perquinto sono niente rispetto a quanto ha sofferto nella sua prigionia, ma niente è anche quanto ha ricevuto fino ad ora dallo Stato, a parte una croce al merito di guerra che stringe tra le mani. Per questo Quinto ha chiesto di accedere ad un fondo istituito dal governo Draghi per risarcire gli internati e i deportati dei lager nazisti e ha fatto causa alla Germania. La prima udienza è fissata per il 9 giugno. In ballo un risarcimento di appena 130.000 euro. Speriamo di appena qualche cosa. Però sono pochi, Quinto. Non ne fa niente, ma almeno qualche cosa.